Un migliaio di emendamenti, una settimana di dibattito infiammato e di polemiche contro Macron. Alla fine l'Assemblea nazionale francese ha adottato in prima lettura il disegno di legge asilo e immigrazione con 228 voti favorevoli, 139 contrari e 24 astenuti. Il voto è arrivato il settimo giorno dopo acceso dibattito e un solo voto contrario del partito la Repubblica Marche, Jean-Michel Clément, che ha annunciato l'uscita dal gruppo di maggioranza. Gli altri 14 membri dello stesso partito hanno espresso il loro disaccordo sul testo, astenendosi. Il testo è stato difeso con forza dal ministro dell'Interno, Gérard Collomb, secondo cui il disegno di legge mira un'immigrazione controllata, un diritto di asilo efficace e un'integrazione riuscita, riducendo da 11 a 6 mesi, ricorso compreso, la procedura per la richiesta di asilo. L'obiettivo del governo è facilitare sia l'espulsione di quanti non ottengono l'asilo, sia l'accoglienza di quelli a cui viene invece riconosciuto. Voti contrari dei repubblicani e di tutta la sinistra socialista, così come dei deputati del Front National. La destra ha denunciato una piccola legge della maggioranza immigrazionista, mentre la sinistra e l'ala dissidente della maggioranza di governo hanno criticato due misure emblematiche del testo, l'estensione del periodo di detenzione per i migranti in attesa di espulsione e la riduzione dei tempi per i ricorsi. Lo scorso anno la Francia ha ricevuto il numero record di 100.000 domande di asilo.